Gianluca Pini è nato tutto da una sua foto, la candidatura di Lucia Borgonzoni al sindaco di Bologna. C'è un problema con Forza Italia, almeno qui in città? Lei pensa che si troverà la quadra alla fine? Io penso proprio di sì, voglio dire Massimo Palmizio che è il segretario regionale di Forza Italia si è sempre dimostrato persona assolutamente ragionevole, capace di capire i mutamenti che ci sono a seconda dei momenti contingenti anche della politica e in questo momento la forza trenante del centro-destra è la Lega Nord, non possiamo permetterci di perdere tempo nel creare un'alternativa Merola, sempre più debole sempre più attaccato a soluzioni abbastanza fantasiose per ripresentarsi una seconda volta e noi andiamo avanti con chi in maniera coerente da tanti anni è rappresentato e rappresenta la Lega Bologna la mia foto è stata casuale perché erano entrambi i miei ospiti giù in Romagna, Milano Marittima perché evidentemente si sta molto bene da quelle parti e allora abbiamo sfruttato l'occasione d'accordo con il segretario federale.